Lucia Olivotto, attuale vice sindaca di Belluno, si mette a disposizione come possibile candidata sindaca del centro-sinistra, area che sta ancora affinando le strategie per le prossime amministrative nel capoluogo. Il suo nome entra ufficialmente nella rosa di quelli in discussione. C'è il tavolo del centro-sinistra al quale noi aderiamo e quindi questa candidatura viene posta ufficialmente a quel tavolo, auspicando proprio di uscire poi comunque, qualunque sia poi la persona scelta, ma in maniera unitaria, convinta e condivisa. Qualcosa è mancato in questi anni? Certamente sì. Parlavo prima del miglior e maggior rapporto con la cittadinanza, stringere di nuovo un po' il collegamento con la città e con i cittadini che ultimamente si sono un po' persi. Alcune idee fondanti della sua visione? La mia visione è sicuramente per il benessere della città che passa attraverso la natura, passa attraverso lo sport, sicuramente il turismo e la valorizzazione storica anche della nostra città. Penso ai bambini, penso molto ai ragazzi, specialmente in fascia adolescenziale e penso però naturalmente anche al problema degli anziani. Ci sono molti problemi in questa città, però ci sono anche molte risorse e molte risorse buone. La volontà sarebbe quella di tentare perlomeno di impostare politiche tributarie che aiutino i meno abbienti. Penso ad un ampliamento della soglia di esenzione dell'addizionale comunale per favorire i redditi più bassi. Non è una manovra semplicissima perché i comuni purtroppo non possono agire in maniera pesante sull'aspetto fiscale e tributario, però qualcosa si può fare. Olivotto si è messa a disposizione in seguito alla raccolta firme di un gruppo di cittadini. Le autocandidature non mi piacciono. Io ero titubante, molto titubante, ma questa iniziativa mi ha dato la spinta giusta.